E ordiniamo da mangiare, right? Va bene? Cristo? Non fare finta che fai in crisi Vento dalla faccetta e adesso la vediamo, ok? Nooo Accarezza No, no, per la volta che sono una cosa Se ricomincia, ti Ora si spiegli, arriva il lupetto 1 Lupetto 2 Lupetto 2 E andiamo a guardare Che stagione fatti Mi potevo guardare Per questo Oh No No Ma vabbè questo attacco di merda che mi troppo il cazzo Il bastardito di madre No Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.